Grazie Presidente, io volevo pagliere l'occasione per ringraziare i colleghi che hanno resa possibile questa delibera, è un passo molto importante per la disabilità e per la civiltà di questa città, sicuramente è anche un segnale di come noi riusciamo, come ricordava prima il consigliere Figliomeni, ad attuare la disposizione dell'ONU, per cui la disabilità è un qualcosa di trasversale, è un qualcosa di trasversale che deve essere recepito e contemplato in tutti gli ambiti, non può essere legato solamente nel sociale, ma è una realtà che permea tutti i settori della vita moderna e questo voler dare queste indicazioni per rendere accessibili i locali non solo delle istituzioni, ma anche delle amministrazioni, ma anche quelli privati aperti al pubblico è un enorme passo avanti. Quindi ovviamente li ringrazio e sono anche contenta che tutte le opposizioni sono concordi su questo argomento, d'altronde non poteva essere diversamente perché è un argomento che ci riguarda tutti e su cui tutti siamo sensibili. Grazie Presidente.